amici dell'os città di palermo amici del nostro canale ufficiale di youtube e soprattutto ai nostri followers sulla nostra pagina ufficiale di facebook benvenuti torna qui è questo appuntamento che vi dà la possibilità di poter interagire con noi in maniera diretta avrete la possibilità attraverso questo format questo gioco di poter venirci a trovare al tenente onorato dove i nostri calciatori si allenano e avete la possibilità se risponderete esattamente di poter stare con loro partecipare agli allenamenti e poi fare le foto e autografi e tutto il resto cosa dovete fare è semplicissimo adesso vi farò vedere in maniera un po criptata uno dei nostri calciatori che vi darà tre indizi a voi il compito di indovinare nome e cognome del calciatore e numero della maglia e soprattutto vincerà il primo che risponde esattamente vediamocelo con lo stesso numero di maglia di baggio nel mondiale di 90 la mia nazionale giocherà il prossimo europeo sono stato allenato da una leggenda del calcio mondiale lui argentino questi i tre indizi dati dal nostro calciatore in maniera assolutamente criptata a me il compito adesso di riassumerli primo indizio indossa il numero di maglia che indossò roberto baggio nei mondiali di italia 90 la sua nazionale quest'anno giocherà euro 2016 questo calciatore che voi dovete riconoscere è stato allenato da una leggenda del calcio argentino a voi il compito adesso di indovinare cui è che voi dovete riconoscere è stato allenato da una leggenda del calcio